Tourist, from Greece. La pioggia inizia a scendere alle 13, giusto per lasciare il tempo agli ultimi turisti di consumare il loro pranzo in autogrill. Pranzo rigorosamente al sacco, già preparato in auto e non acquistato. Questo sole non viene fuori per le vacanze? No, no, non viene. Quest'anno proprio no. Ci ha rotto le scatole? Sì, no. Speriamo che ritrovarebbe il tempo, dai. Quella ci accompagna, però noi siamo fiduciosi. Magagliai stracolmi, anche per evitare eventuali extra. In viaggio quest'anno si porta anche il ferro da stiro. I soldi non devono mancare, gli euri, come li chiama lei, non lo so. Euri, euri. Niente vacanze dai nonni. Non è proprio una vacanza questa, perché quando vai a ritrovare i genitori, tutti i parenti, tutti i amici, tutti di una volta, non è come una vacanza. I più fortunati di settimane fuori città ne faranno due, nella speranza che questo agosto regali ancora un po' di sole, poi si torna al lavoro. Per dove? Grado. Quanti giorni di vacanza si è concesso? Si lavora? Sì, purtroppo sì. Fortunatamente sì. Anche tu non ancora lavora. Si lavora. Si lavora, sì, per forza, perché sennò non si può andare avanti. Siamo obbligati per andare avanti, sì.